Buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Start. Quello di questa sera è uno degli otto incontri che terremo per far sì che voi possiate conoscere un po' più da vicino coloro che sono gli otto candidati in corsa alle elezioni amministrative che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio. Dunque inizierei dando il benvenuto all'ultimo sindaco di massa Francesco Persiani che ringrazio per essere qua, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Che si ricandida sostenuto da Forza Italia, Lega, Civici Appuani e Francesco Persiani, sindaco. Dunque la domanda sorge spontanea, perché ha deciso di ricandidarsi? Beh, grazie alla domanda nel senso che naturalmente il mandato di un sindaco è previsto per cinque anni con possibilità di proseguire per ulteriori cinque proprio perché l'ordinamento del legislatore ha immaginato che una sola amministrazione, un solo mandato non possa essere in grado di completare quello che è un percorso, un ciclo di amministrazione e quindi anche di rinnovamento di quello che può essere la città o il conseguimento di obiettivi magari molto spesso complessi che hanno bisogno di molto tempo. E quindi l'opportunità è proprio questa, di poter almeno avere, come succede poi in tante altre figure naturalmente istituzionali o politiche, quello di poter amministrare per un periodo sufficientemente lungo. Naturalmente a metà, diciamo, nell'arco di dieci anni la prima scadenza quinquennale è una messa alla prova se i cittadini hanno apprezzato l'operato di un sindaco o di un'amministrazione e quindi se questo può proseguire o vi sia necessità di una discontinuità. Io credo che ci siamo tutti presupposti per poter venire qui abbastanza, insomma, con la coscienza a posto e poter chiedere ai nostri concittadini e ai nostri concittadini di poter ridarci fiducia rispetto a un percorso che sicuramente non è stato semplice, che ha visto, insomma, in qualche modo recuperare molto strada, molto terreno che avevamo perso negli anni passati con le precedenti amministrazioni. C'è stato per la prima volta un segnale di discontinuità proprio grazie a un'amministrazione di centro-destra che per la prima volta aveva ottenuto il consenso della città a livello amministrativo e abbiamo messo in campo tante cose, le abbiamo attuate, tante le abbiamo progettate, programmate, tante le svilupperemo. Quindi, ecco, la necessità è questa, di poter avere la possibilità di dimostrare che quello che si è fatto lo si potrà fare anche in futuro, continuando proprio l'impegno che abbiamo messo in questi cinque anni. Ecco, entriamo subito in quello che è il merito. Erosione e bonifiche, da sempre sono punti abbastanza spinosi. Lei cosa propone per risolvere problemi dannosi come questi? Beh, dunque, innanzitutto sono due temi che coinvolgono vari enti, vari istituti e naturalmente l'impegno anche di risorse importanti che non possono essere gestite unicamente a livello comunale, anzi, le competenze in entrambi i casi sono regionali e ministeriali. Questo non vuol dire che il Comune non debba fare, non possa fare la propria parte, infatti l'abbiamo fatto. Abbiamo, naturalmente, accompagnato i percorsi istituzionali e a livello amministrativo sovraordinato. Abbiamo fatto in modo che la campagna di bonifiche, o meglio, la campagna di caratterizzazione della falda potesse essere monitorata e attuata. Quindi abbiamo partecipato a tutti i tavoli, a tutte le cabine di regia in regione. Ci siamo interfacciati con i vari ministri, i sottosegretari all'ambiente che ci sono succeduti. Nel tempo abbiamo, naturalmente, collaborato con le varie società che hanno operato all'interno di questo contesto, di questo accordo di programma. Tant'è vero che nel 2018 è iniziata questa campagna di caratterizzazione che poi ha portato, nel 2020, ad avere un quadro finalmente esaustivo di quella che era la situazione che non era più conosciuta da anni. Questo, oltretutto, ha richiesto la necessità di emettere ordinanze, anche purtroppo spiacevoli, verso, naturalmente, quella parte del territorio che ancora attingeva dei pozzi artesiani per uso potabile o per innaffiare gli orti o per altri motivi. Naturalmente, ora abbiamo un quadro completo. Nel frattempo, il ministero ha provveduto alla progettazione dell'impianto di bonifica. Cioè, sappiamo cosa dobbiamo bonificare, finalmente l'abbiamo accertato. Individuato. Individuato le aree, cos'è tutto dovevano essere interessate. E abbiamo in piedi un progetto. Naturalmente, un progetto che necessitava di studio, approfondimento. Un progetto molto complesso, perché si trattava di intervenire in un sito molto delicato, quello che è il SIR e il SIN di massa, e quindi ora c'era, entro il 2022, avrebbe dovuto essere assegnato l'appalto. Purtroppo alcuni ritardi burocratici, di pratiche complesse, non hanno permesso di raggiungere l'obiettivo di avere un vincolo giuridico che potesse in qualche modo consentire di utilizzare le somme che erano in scadenza. Queste somme al 31 dicembre 2022 sono quindi, in pratica, sono andate perse, perché la Regione non è riuscita ad arrivare in tempo. Però questo non è, come dire, non è quello il problema, il tema ora principale, perché naturalmente la Regione ha subito fatto ammenda, dicendo no, ma state tranquilli, i soldi li recuperiamo. Noi stessi ci siamo attivati col Ministero e avremo proprio in questi giorni il sottosegretario Vagna Gava e il Ministro Picchetto Frattin, entrambi Ministro e Vice Ministro dell'Ambiente, che confermeranno con dei sopralluoghi qui sul nostro territorio che il Ministero ha molta attenzione al tema delle bonifiche e metterà a disposizione tutte le risorse che serviranno ora e in futuro per realizzare il progetto e per poterlo mantenere. Quindi questo è un tema naturalmente molto complesso, non è un tema che possiamo trattare come se fosse qualunque tipo di apparato gestionale o opera pubblica, perché questa fuoriesce da qualsiasi contesto, è un'opera straordinaria, eccezionale. Dobbiamo dire però che non è nemmeno vero che è il 30 anni che si parla di queste cose, perché come ripeto l'accordo di programma sottoscritto nel 2016-2017 è stato attuato nel 2018, quindi è solo dal 2018 che si sta veramente ragionando sul tema delle bonifiche, come bonificare la falda. Quindi questo, come dire, è vero che il tema è pluridecennale, però su questo specifico tema lo stiamo affrontando dal 2018. Quindi abbiamo fatto nel frattempo dei passi in avanti e il frutto di questi passi in avanti li vedremo prossimamente. Quindi io sono piuttosto confidente che sicuramente vedremo nascere qualcosa, poi vi sarebbe troppo lungo raccontare tutto l'aspetto tecnico nel dettaglio che potremo comunque affrontare singolarmente, magari in un apposito incontro, naturalmente raccontare quali sono le sostanze inquinanti, ma anche se l'abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre raccontato la città in maniera molto trasparente, quello che accadeva, anche rappresentando in certi momenti magari elementi negativi, perché non è che il politico deve soltanto intestarsi gli aspetti positivi, a volte c'è anche il momento in cui bisogna raccontare anche cose magari che non fanno piacere. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo anche partecipato alle azioni giudiziarie, volte a recuperare da coloro che hanno inquinato le risorse per poter quindi risolvere, bonificare le aree, quindi tutto questo noi l'abbiamo seguito con grande attenzione. Certamente sono percorsi molto spesso difficili, complessi, che vedono anche tanti trabocchetti burocratici, però questo è un dato oggettivo sul quale naturalmente noi continueremo a prestare la massima attenzione. Quindi diciamo che il seme è stato piantato, vediamo poi... Sicuramente, il treno è partito, quindi prima o poi deve arrivare a destinazione. Analoga, naturalmente, racconto si può fare per quanto riguarda l'erosione, naturalmente anche se si tratta di due temi completamente diversi. Anche qui noi abbiamo preso in mano una situazione che era piuttosto complessa, non dimentichiamo che il nostro litorale è stato anche in questi anni colpito duramente da questo fenomeno, tant'è vero che è legato anche ai cambiamenti climatici, c'è uno studio a livello europeo, un progetto cosiddetto SCORE, che vede tante città europee coinvolte in questo studio e per l'Italia Marina di Massa, per l'appunto. All'interno di questo contesto, quindi che ci configura come un sito particolare sotto questo profilo, non è che l'erosione sia colpa di qualcuno in particolar modo, è un tema che sappiamo abbastanza complesso, che nasce anche dall'esistenza del porto dei primi del Novecento, che nel tempo ha impedito che i sedimenti del fiume Magra potessero pian pianino scivolare verso sud e quindi tutte le volte, come dire, in qualche modo ripascere quello che era la costa. Però tutto questo noi l'abbiamo affrontato con grande serietà, senso di responsabilità, sempre interfacciandosi naturalmente con l'ente competente, che anche in questo caso è la Regione e in parte anche il Ministero, e abbiamo trovato delle soluzioni, naturalmente progettuali e tecniche, che richiederanno anche grossi impegni di investimento di denaro pubblico, che chiederemo naturalmente e cercheremo di ottenere. Esiste già un master plan che abbiamo contribuito a redigere, ad affrontare, che va dal lavello fino al frigido. Naturalmente ci sono stati interventi di ripascimento, come dire, un atantum da parte della Regione e quelli ogni anno seguiti dal Comune. Ci sono proposte come quella del Tecnoriffe, che sono proposte nella zona di Ronchi-Poveromo, che sono innovative e che vorremmo sperimentare. Ma soprattutto c'è il tema della compensazione, tra quello che è la ricchezza che ha prodotto in questi anni il porto e quella che potrà produrre un eventuale ampliamento, sempre che venga naturalmente tutto contemperato con le nostre esigenze di tutta la nostra costa e che vede la possibilità, finalmente, grazie all'iniziativa del Comune di Forte dei Marmi, da noi condivisa immediatamente, quella di costituire un consorzio ad hoc per il ripascimento. Ovvero sia gli studiosi, anche nei conveni, negli studi che sono stati fatti recentemente, hanno evidenziato che naturalmente bisogna portare della sabbia, della sabbia compatibile, dei sedimenti caratterizzati, che possono in qualche modo ripascere le nostre coste abbondantemente e continuativamente. Naturalmente noi abbiamo anche il problema del SIR, che insiste anche sulla renile, su questo ci siamo impegnati per toglierlo, quindi per liberare molte aree, questo vale anche per il discorso delle bonifiche, quindi andare pian pianino, grazie alla caratterizzazione, a restituire agli usi legittimi aree che magari non sono più inquinate. La stessa cosa vale per la renile e per l'erosione. Quindi il concetto nasce da riportare sabbia, ovviamente via mare è più semplice, meno costoso, cercheremo di farlo e questo consorzio vedrebbe la partecipazione naturalmente della regione, del Comune di Massa, dei Comuni di Costa, ma soprattutto del sistema portuale del Mar Rigoli Orientale. Cioè l'autorità portuale, insieme anche alla Camera di Commercio, saranno gli enti preposti per andare a togliere la sabbia che è prospicente naturalmente il porto, che in qualche modo crea delle secche, crea delle zone dove questa sabbia rimane lì inutilizzata, prelevarla e quindi portarla sulle nostre coste. Perché questo? Perché già negli obiettivi, nei compiti della porta autorica è quello di togliere questa sabbia. E noi abbiamo già 200-300 mila metri cubi che ci aspettano, lì che sono già pronti, già caratterizzati, per essere spostati e portati sulle nostre coste. Chiaramente questo è soltanto l'inizio di un percorso che potrà vedere probabilmente, grazie un po' forse all'uovo di Colombo, cioè la soluzione era un po' anche più semplice di quanto potevamo pensare, quello di portare queste cose. Naturalmente poi ci sarà tutto un percorso di difesa della costa, con in qualche modo migliorando anche la parte più, come dire, fissa, come quello che sono gli scogli, le scogliere, i pennelli, le soffolte, e in parte anche a liberare invece la costa da questo. Quindi faremo anche delle prove, degli esperimenti che potranno consentire di vedere se andando a de-ingegnerizzare la costa il sedimento sarà più facile che possa in qualche modo essere duraturo, durevole e resistere anche ai periodi di mareggiate e ai cambiamenti climatici. Tutto questo quindi, vedete, è una questione molto articolata, molto complessa, molto tecnica anche. Esattamente, vedete, tanti enti coinvolti, però noi stiamo facendo dei grandi passi in avanti. Cambiando invece argomento, ma rimanendo sempre su quello che è un tema fondamentale e strategico per noi, turismo e commercio. Come incentivare questi settori? Ma dunque il turismo è uno dei punti salienti dell'economia locale, tant'è quello che è il primo punto dell'ordine del giorno del nostro programma elettorale. L'abbiamo messo lì perché effettivamente attraverso il turismo, attraverso tutto ciò che ruota, l'indotto che ruota nel turismo, in una località meravigliosa come quella di Maria di Massa, non potevamo non avere massima attenzione a questo settore importante dello sviluppo economico. Vorrei partire innanzitutto da alcuni dati. Che il turismo locale, il nostro turismo di Maria di Massa, è stato il turismo che anche, rispetto ai comuni limitrofi, è quello che ha retto meglio anche in periodo pandemico e post-pandemico. È in un momento di grande sviluppo e credo che ci siano numeri molto soddisfacenti. Naturalmente questo va grazie anche agli operatori, anche dei balneari, quello turistico-ricettivi e lo stesso commercio. Però diciamo anche una mano l'ha data sicuramente anche il Comune, l'amministrazione, aiutando naturalmente lo sviluppo di questo settore, creando anche migliore decoro, pulizia, della sicurezza all'interno del territorio, nel suo contesto da mare a monti. Naturalmente il percorso, come sempre, è in via di evoluzione, quindi si può sempre andare migliorando, però abbiamo fatto dei grossi passi in avanti. Anche grazie ad eventi culturali, promuovendo le stagioni estive, creando occasioni anche per dare ai turisti anche un'immagine bella. Pensiamo anche dalle cose che sono state magari un pochino più banalizzate, ma che secondo me sono importanti, come una ruota panoramica, o come naturalmente eventi invece, magari come Lungomare da leggere, a Villa Couturi, o come tutti i palcoscenici stellati, o come i fuochi d'artificio che abbiamo fatto, come l'estate, ma anche ad esempio a Capodanno, oppure organizzando eventi sportivi tutto l'anno, ad esempio che hanno visto la nostra costa, così come altri luoghi della città, perché il turismo non è naturalmente solo sulla costa, ma è un turismo che noi abbiamo voluto portare fino in montagna, grazie anche allo sviluppo di un autobus che poteva portare naturalmente i passeggeri fino all'orto botanico, a Pian della Fioba, quindi a in qualche modo mettere insieme, raccordare tutto questo. Anche questo vale anche per il commercio, perché anche il commercio ha avuto alla fine, nonostante difficoltà importanti, ha avuto il sostegno dell'amministrazione. Noi abbiamo un regolamento per la valorizzazione del commercio che ha permesso anche di arrivare da massa a marina ed estendersi anche fino alla montagna, in parte valorizzando le botteghe storiche, dando dei contributi a fondo perduto, dando anche delle riduzioni anche fiscali. Tutto questo ha portato anche a un miglioramento di quelli che erano i rapporti fra amministrazione e categorie, così anche come abbiamo in qualche modo cercato di incentivare quello che era uno sviluppo di un territorio che poi alla fine abbiamo visto ha avuto un saldo sicuramente fra apertura e chiusura positivo. Qui c'è da sviluppare però tante altre cose, sono da sviluppare, penso ad esempio alle strutture turistico-ricettive che a mio avviso dovrebbero essere ampliate, dovremmo avere maggiore possibilità di attrarre anche un turismo anche di qualità, anche selezionato durante tutto l'anno. Ci stiamo attivando per fare questo e ci sono già segnali incoraggianti, così come segnali incoraggianti ci provengono dal mondo delle colonie, dal mondo ad esempio dei campeggi, sul quale naturalmente abbiamo voglia di investire molto e per fortuna vediamo anche investitori privati che sono tornati a scommettere anche sullo sviluppo di queste aree. Io vedo anche ad esempio delle ville storiche rinascere, essere ristrutturate, ampliate, quindi una vita che naturalmente vuole andare avanti e un territorio che vuole non essere più considerato la cenerentola della nostra costa, ma vuole essere equiparato ai luoghi più in qualche modo prestigiosi e noi vogliamo rientrare perché abbiamo tutte le caratteristiche per rientrare, così come lo sviluppo ad esempio dei siti culturali che abbiamo anche nel centro storico, quindi abbiamo degli importanti risorse per ripristinare un palazzo burdignone, per fare un parcheggio sotterraneo per creare anche dei luoghi per esposizioni, per arte, abbiamo valorizzato il Museo Guadagnucci, ora stiamo lavorando molto sul Castello Maraspina, lì abbiamo avuto dei problemi derivanti appunto dal fatto che non era di proprietà del comune, ma è della proprietà dello Stato, quindi la soprintendenza naturalmente ha un po' rallentato l'operatività, ma stiamo migliorando anche su quello, quindi c'è tutta una sorta di sviluppo complessivo che guarda al turismo, al commercio, naturalmente all'artigianato, perché molto commercio è anche in parte artigianato, ma soprattutto una vicinanza del comune a queste realtà, dando tutto quello che possiamo dare anche per regalare eventi prestigiosi come i concerti del Maggio Fiorentino, Zubin Meta, la prima volta che il Maggio Fiorentino si è spostato da Firenze è venuta a massa con uno dei direttori d'orchestra più famosi del mondo, così come naturalmente abbiamo avuto delle stati con dei concerti anche per i giovani, abbiamo iniziative di tutti i generi per creare anche quelle condizioni per far sì che le persone possano non soltanto frequentare i nostri centri storici, le nostre parti della città, ma anche naturalmente investire all'interno del territorio. Quindi diciamo che appunto si ripercorrono un po' quelli che sono i passi vincenti verso anche un'inclusione maggiore dei giovani, verso appunto, come ci ha appena citato, quelle che sono manifestazioni sportive, quindi maggiore attenzione anche allo sport, si riconferma quella che è un'attenzione alla cultura. Quindi diciamo che siamo riusciti veramente, con la sua risposta, infatti l'ho ascoltata molto attentamente, a fare un quadro generale molto vario pinto, ma anche molto chiaro, che appunto include tutto ciò che le ho chiesto, quindi appunto sia quello che è il turismo, sia quello che è il commercio, ma siamo riusciti anche a inserire la tematica giovanile, che è molto importante. Cambiando invece totalmente prospettiva, arriviamo a quello che è il versante sanità, e molto discussa è stata anche la Casa di Comunità. Ecco, cosa ci dice di questo progetto? Beh, dunque, la Casa di Comunità è un obiettivo che io credo che è fondamentale, per il quale la città, mi auguro, insomma, ma sono abbastanza certo, non potrà che ringraziarci per quello che abbiamo ottenuto, che non è un risultato scontato, non è un risultato da poco, è qualcosa su cui abbiamo lottato fin dal primo giorno, perché è da giugno del 2018 che, tra le tante cose, abbiamo dovuto pensare a un'alternativa rispetto a una Casa della Salute, come si chiamava prima, lei giustamente ha detto Casa di Comunità, perché adesso la chiamiamo la Regione, l'Agenas, insomma il Ministero della Sanità, la chiama in questo modo, proprio per dare una configurazione diversa, cioè quindi questo distretto, una volta si chiamava distretto socio-sanitario, poi Casa della Salute, ora Casa di Comunità, per dire che è qualcosa che deve riguardare tutta la comunità, ed è qualcosa che mancava profondamente qui da noi, perché l'edificio, la sede di Via Bassatambura, che è quella che sostituirà, verrà sostituita meglio, ormai era inefficace, inagibile, insomma nel senso che non era più in grado di poter soddisfare i bisogni sanitari della nostra popolazione, un capologo di provincia di oltre 65-66 mila abitanti, quindi la Regione naturalmente avrebbe dovuto mettere a disposizione del Comune importanti risorse, qui ci vogliono milioni di euro per fare queste cose, non bastano delle noccioline, cosa che era avvenuta dopo la realizzazione dell'ospedale della Puana naturalmente con Carrara, in cui il monoblocco di Carrara e varie sedi dei distretti, e quindi delle case della salute, le case che diventeranno ora case di comunità ad Avenza e a Carrara, erano state finanziate dalla Regione, ma come avete visto questi finanziamenti regionali, che derivano poi da finanziamenti ministeriali, hanno difficoltà ad essere portati a termine, perché sono percorsi molto lunghi, molto complessi, che hanno bisogno anche di tempistiche, soprattutto in Italia, nel nostro Paese, che sembrano che non finiscano mai, io che sento parlare degli interventi a Carrara, è dal 2018, e vedo che il 2023 ancora non è stato realizzato nulla, dovevano essere spostate un sacco di cose, di funzioni, ancora non ci sono, allora qual era il problema? Il problema era trovare invece una soluzione per massa, perché noi avevamo bisogno di questa cosa, da lì è nata tutta una ricerca molto complessa, molto articolata, per capire dove poter ricollocare questa struttura, tra l'altro una struttura che richiedeva circa 3.500, 4.000 metri quadri, quindi con un'area attorno di sedime piuttosto vasta, per parcheggi, aria verde e tutto. Naturalmente quando è accaduto che è stato approvato il regolamento urbanistico nel 2020, forse questi cittadini magari non se lo ricordano più, il vecchio ospedale di massa, quindi il nuovo monoblocco del vecchio ospedale, ha cambiato destinazione d'uso, cioè la regione ha chiesto che venisse trasformato non più in ospedale, ma in residenziale, questo anche comportando un aumento anche del valore patrimoniale della regione. Cosa è successo? che la regione aveva stanziato anche dei soldi per l'abbattimento di questo importante stabile, se non ricordo male, un paio di milioni di euro per demolirlo, per abbatterlo. Noi siamo sempre opposti a questo e non abbiamo, come dire, non c'è stato neanche il tempo di mettersi a discutere al tavolo per capire cosa fare di questo edificio che è arrivata la Covid. Quindi con la pandemia questo edificio è stato riutilizzato d'urgenza, giocoforza dalla regione in via di emergenza, trasformando in un luogo per le cure intermedie, per naturalmente confinare i malati, quelli che avevano bisogno di essere naturalmente curati diversamente rispetto all'ospedale per acuti e addirittura centro vaccinale. Ma tutto questo ha potuto farlo la regione proprio perché eravamo in periodo emergenziale, perché in realtà quell'edificio sappiamo molto grande, molto imponente, d'altro dentro non è nemmeno, a noi ci sembrava anche ancora quasi nuovo per certi versi perché non era stato ristrutturato tanto tempo prima, ecco che quell'edificio non ha però i requisiti di agibilità, quindi non verifica dal punto di vista sismico e statico. Per poterlo mettere a norma abbiamo chiesto che venissero fatte delle perizie, delle valutazioni e la regione ci ha risposto che per fare questo occorreva un importo molto elevato, addirittura più di 25 milioni di euro. quindi capisce che chiedere 25 milioni alla regione che a malapena ha riuscito a mettere a disposizione 10-15 milioni per Carrara in questi anni ma parlo da quasi 10 anni che se ne parla di questa cosa sembrava quasi una scommessa impossibile cioè non avremmo mai ottenuto davvero questo risultato a meno che la regione non si fosse naturalmente determinata. Che succede nel frattempo che a seguito della pandemia ecco che viene messo questo PNRR questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che destina nella missione 6 proprio importanti risorse per le nuove case di comunità e ospedali di comunità. Quindi qual era l'occasione giusta in quel momento per avere soldi europei che naturalmente la regione in quel momento non ci poteva garantire. Seconda cosa la possibilità di spenderli entro il giugno 2026 quindi non di avere una promessa di avere fra 10 anni una casa di comunità che non ce ne facciamo di niente fra 10 anni ma di averla nel giro di pochi anni bisognava trovare un sito bene noi abbiamo nel nostro percorso di amministrazione abbiamo già esplorato il sito vicino alla stazione che naturalmente aveva dei pregi e dei difetti come tutte le cose abbiamo valutato che però i pregi fossero molto maggiori dei difetti l'unico difetto che può avere è che è un po' un crocevia dove c'è un po' di naturalmente traffico questo sì che gestiremo che troveremo il modo di gestire ma è anche vero che lì c'è anche la stazione ferroviaria c'è la stazione taxi c'è il capolinea degli autobus e quindi ci sono anche servizi pubblici molto importanti per supplire queste carenze per giunta era un sito che non aveva bisogno di bonifiche cosa strana in nostro territorio non aveva vincoli idraulici cosa strana in nostro territorio non aveva altro tipo di problematiche per cui l'area era pronta e subito per realizzare un edificio ex novo oltretutto un'area che è inutile parlare di consumo di suolo vergine qui non era suolo vergine quella era una zona praticamente abbandonata e degradata e andremo a costituire un presidio anche sanitario ma anche di legalità all'interno di una riqualificazione complessiva di questo centro storico ecco io credo che questo sia un percorso che non è stato facile ottenere perché naturalmente non tutti hanno piacere naturalmente ancora oggi di poter raccontare che noi abbiamo ottenuto quel risultato ma noi io credo insomma di aver fatto tutti quanti noi anche perché poi alla fine la decisione naturalmente non l'ho presa da solo l'ho presa insomma tanti enti la ASO della regione le ferrovie tanti organi di controllo dai vigili fuoco all'ARPAT a tutti i settori regionali quindi voglio dire è stata una valutazione complessiva lo stesso comune qual è stato il passaggio più complesso? quello di acquisire l'area che naturalmente abbiamo acquisito noi come comune abbiamo messo a noi le risorse e credo che proprio sia stata una questione di questi giorni proprio la conclusione di questa operazione devo dire molto complessa dal punto di vista giuridico nel quale ho dedicato veramente tutto l'impegno che potevo dedicare e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato naturalmente al perseguimento di questo obiettivo importantissimo perché avevamo bisogno di un presidio sanitario efficiente nuovo che potesse darci veramente le risposte che vogliamo per giunta l'occasione è stata propizia per aggiungere a questa casa di comunità anche l'ospedale di comunità con 20 posti di cura intermedia che ovviamente erano come oro nel nostro territorio avendo un ospedale importante per acuti e quindi questi 20 posti di cura intermedia daranno sollievo naturalmente anche all'ospedale e anche lo stesso pronto soccorso poi naturalmente non ci fermiamo qui noi la sanità la vogliamo a tutto tondo vogliamo quindi mantenere gli impegni che ci siamo presi sempre tutti in questi anni presso la conferenza zonare col piano naturalmente sanitario che abbiamo approvato con una medicina di prossimità con gli infermieri di famiglia che già ci sono già ci sono gli infermieri a domicilio già ci sono la telemedicina già ci sono tutta una serie di chiaro le problematiche sono tantissime pensiamo che la sanità comunque è come dire è gestita a livello regionale abbiamo cercato di aiutare i medici di medicina generale a trovare anche degli ambulatori nella zona montana naturalmente abbiamo dato un grosso contributo con le nostre farmacie comunali chiaro non dico che i problemi non ci siano ci sono tanti problemi ma naturalmente noi dobbiamo fare la nostra parte noi l'abbiamo fatta vorremmo farla io chiaramente ho tante idee anche di sviluppo di quelle che potranno essere le necessità del nostro territorio migliorare anche le liste d'attesa avere dei primari di primario rilievo anche nel nostro ospedale abbiamo anche l'ospedale del cuore che si sta sviluppando insomma diciamo che ci sono come sempre luce e ombre ma noi qua su questo tema abbiamo lavorato non tanto tantissimo ecco e rimanendo sempre nell'ambito servizi si parla di società molti servizi lei è d'accordo o diciamo sfavorevole? non ho delle conclusioni proprio totali penso che però ci sia un tema fondamentale che vada affrontato cioè quello che più si accentrano certi servizi più si spostano dal controllo territoriale come quello di un sindaco di massa che è un capologo di provincia e li si porta in contesti dove bisogna si conta meno diciamo perché in percentuale naturalmente pensiamo a rete ambiente dove ci sono 100 comuni tu potrai essere anche un comune capologo di provincia ma conterai sempre in percentuale in modo tale da non riuscire a incidere come vorresti su questi servizi siccome questi servizi sono essenziali ecco io mi permetto di essere un po' diffidente nel senso non che abbia dei pregiudizi assoluti perché poi si possono trovare naturalmente i meccanismi le regole del gioco si possono anche definire però in questo momento vedo che già gli ambiti che abbiamo noi sono già ambiti che non sono così ottimali se devono chiamarsi ambiti ottimali non lo sono ottimali perché più allontani la possibilità di un sindaco soprattutto in temi ripeto importantissimi come l'acqua come può essere l'energia come può essere i rifiuti lo allontani dal suo controllo naturalmente più lui ha difficoltà a poter rispondere alle esigenze dei cittadini ecco questo un po' mi spaventa perché ho visto quanto sia importante essere presenti sul territorio percepire le difficoltà e poter intervenire subito all'interno delle aziende e delle partecipate perché lì il sindaco ha un'incidenza per cui può trovare la risposta chiaro che se io mi metto dentro una stanza dove ho altri cento colleghi prima che abbiamo parlato tutti il problema probabilmente il problema magari come dire è già certo i buoi sono già scappati dalla stalla quindi ecco questo è un tema molto dedicato so che la regione toscana e alcuni comuni centrali stanno operando questa fusione perché avevano delle società in qualche modo convergenti o sovrapposte io andrei molto cauto ci andrei con i piedi di piombo grazie mille per aver risposto a queste domande un pochino più tecniche passiamo a qualche curiosità perché come abbiamo detto questa è un'occasione per conoscere anche un pochino più da vicino a livello umano quelli che sono i nostri candidati quindi io chiederei a Francesco Persiani qualche ingenua curiosità su di lei preferisce il mare o la montagna visto che ci troviamo in un posto che insomma ci dà la possibilità davvero di spaziare allora io diciamo del primo acchito preferisco la montagna secondo me mia moglie proprio preferisce il mare si facciamo un po' al mare un po' alla montagna è un giusto compromesso e qualche hobby suo? ma io devo dire che il mio hobby principale è sempre stato la lettura naturalmente fare delle camminate vacanze viaggi viaggi io penso che i migliori soldi che ho speso nella mia vita sono nei viaggi perché ti aprono la mente ti ti hanno a conoscere il mondo quindi su quello avessi possibilità viaggerei in continuazione ultimamente da sindaco ho viaggiato veramente zero però diciamo che è giusto anche questo e poi naturalmente come dicevo la lettura naturalmente mi appassionano molto tutti i tipi un po' di lettura di musica e diciamo che poi un hobby sul giardinaggio le rose sono molto appassionato di coltivazione delle rose ho avuto anche in questi anni possibilità così di curarmene quelle che insomma le più quelle che erano quelle che mi piacevano di più non come in passato però questo è sicuramente un hobby che mi ha sempre quindi pollice verde no questo no 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 il pollice verde purtroppo non ce l'ho ma mi arrangio e comunque sbagliando si impara e quindi l'importante è provarci benissimo grazie mille diciamo che il nostro incontro sta volgendo al termine quindi le chiederei per concludere secondo lei quali siano i punti di forza del vostro programma e di conseguenza perché votare lei ma io credo chiedo ecco la fiducia ai cittadini perché abbiamo una sfida di fronte a noi che è molto importante che è quella non tanto ora di votare o di eleggere il prossimo sindaco non solo ma soprattutto quello di disegnare la vera massa del futuro perché adesso è con i problemi che abbiamo affrontato e risolto in questi cinque anni con la capacità che abbiamo dimostrato di poterli affrontare e risolvere ora ci dobbiamo concentrare su quelli che sono importantissimi finanziamenti legati al PNRR che potranno trasformare il volto della nostra città e questo per fare questo quindi per venire incontro quindi a uno sviluppo anche dell'economia cercando ogni momento di crescita seppur sostenibile naturalmente per poter trovare anche nuovi posti di lavoro per dare il diritto all'abitazione a tutti per tutelare la salute dei nostri cittadini credo che sia necessario un'amministrazione un sindaco competente indipendente incorruttibile io penso che in questi anni aver dimostrato di avere questa forza questa capacità questo amore verso la mia città e quindi anche di aver creato le condizioni per poter lavorare all'interno dell'amministrazione anche con persone capaci e competenti per giungere degli obiettivi e traguardi che forse qualcuno pensava impossibili e raggiungibili beh io intravedo cose ancora più belle e più importanti quindi come mi sono detto tante volte anche dentro me stesso io credo che il meglio per massa debba ancora venire dateci fiducia e lo vedremo viveremo insieme questa nuova città questa nuova massa io la ringrazio molto per essere stato con noi grazie a lei e le auguro buon lavoro in bocca al lupo vi ringrazio per averci seguito noi ci vediamo alla prossima puntata di Start arrivederci buona serata buona sera a tutti a tutti e buona serata